Musica Benvenuti all'appuntamento con la nostra pagina sportiva. Apriamo subito con l'Arezzo. Nicola Strambelli ha firmato la rete che ha chiuso i giochi a Rieti. Per lui è la seconda realizzazione dall'inizio del campionato. Questa è una vittoria assolutamente importante per l'Arezzo. Sì, è molto importante per il nostro cammino perché sappiamo quello che dobbiamo andare a ricercare. Quindi siamo contenti di questa vittoria anche perché domenica scorsa non siamo stati contenti per il risultato. Però la prestazione c'è stata. Un Arezzo che è stato cinico, concreto, che è riuscito a vincere una partita sporca. Al di là del tuo gol del 3-1, però insomma eravate colpito nel primo tempo, diciamo nella forse primavera unica occasione che avevate costruito, il gol su calcio d'angolo quindi anche piazzati possono essere un'opzione. È una vittoria che conta più delle altre per il modo in cui è arrivata. La reazione comunque dopo aver subito l'1-1 subito un avvio di secondo tempo? Sì, sicuramente è un campo difficile per tutti questo. Quindi venire a vincere qui non sarà mai facile per nessuno. Quindi siamo contenti, abbiamo sfruttato anche le palline attive, abbiamo fisicità ed è giusto così. Ecco, ti chiedo anche sulle scelte offensive di Mariotti. Oggi è partito Muzzi dal primo minuto. Insomma, anche davanti tu hai dei compagni, non variano molto, Sparacello, Foggia, poi Cutolo nel finale che ti ha fornito l'assist. Insomma, a livello offensivo è un Arezzo che anche oggi ha dimostrato di avere tante carte da giocarsi. Sì, abbiamo degli attaccanti molto importanti per la categoria che hanno sempre fatto gol e hanno fatto categorie diverse come Nello. Quindi sappiamo che ne devono scendere due, tre, quindi siamo tutti allo stesso livello e poi deciderà il mister chi far giocare la domenica. E per Giuseppe Sicurella un gol che ha avuto il merito di sbloccare la partita allo scopigno di Rieti. Per lui prima realizzazione stagionale. Una bella azione tutta in verticale, l'assist di Muzzi, il velo intelligente di Sparacello, sei arrivato tu a Rimorchi. Insomma, un gol importante anche per te, ti dà convinzione, un avvio di stagione in cui magari da te ci si aspettava che qualcosa in più, questo è un gol importante. Sì, sì, diciamo che è stata un'azione preparata, ne sta una palla buttata, era un'azione preparata in settimana, con palla dietro e Rimorchi arrivava alla mezzala. In quel caso stavo io, ho fatto un gran gol. Sì, sono contento più che altro per la vittoria, perché alla fine vinciamo tutti insieme, uniti. Si è vista anche la reazione, dopo l'1-1 a freddo così, siamo riusciti a ripartire, a mettere palla a terra e a rifare 2-1 e 3-1. Sì, diciamo che all'inizio comunque, come penso capita a tutti, c'è un periodo di adattamento. Non conoscevo nessuno nella squadra, quindi pian piano mi sono inserito in punta di piedi, correndo, allenandomi settimana dopo settimana e pian piano mi sono inserendo nei meccanismi del mister. Però l'importante è portare a casa tre punti, al di là degli obiettivi personali, dobbiamo rimanere tutti dalla stessa parte per l'unico obiettivo. Ad un certo punto Mariotti ha invertito te Mancino, no? Ti chiedo quali indicazioni tattiche aveva dato per questa partita? E poi come è nato anche questo cambio? Il mister in pratica, vedendo Marchi, la metà della sinistra di Rieti che comunque ha più esperienza, ha messo me da questo lato, magari riuscivo a rinunarlo con l'esperienza e penso di essere riuscito bene. Abbiamo portato a casa tre punti e quello che conta è questo, poi ripartiamo da martedì, più carichi che mai, per la partita col Foligno. E adesso parliamo della Serie C, parliamo del Montevarchi, Il successo del Montevarchi a spese del Modena rilancia in classifica e nel morale i ragazzi di Malotti. Il tecnico rosso-blu si è preso una bella rivincita dopo un mese dove aveva raccolto soltanto un punto. Alzi la mano chi credeva che il Montevarchi battesse il Modena. L'impresa dei ragazzi di Roberto Malotti contro i Canarini porta in primo piano la duttilità di un allenatore che ha preparato la partita contro gli Emiliani con grande minuziosità. La linea difensiva, tanto per fare un esempio, è stata ordinata e non si è esposta alle scorribande degli avversari come era accaduto con il Siena. Fase difensiva e fase difendente non è una questione semantica, per dirla la Capuano, ma di sostanza. In pratica tutti hanno dato una mano nel difendere quando la palla l'avevano gli altri. Alla pari del sacrificio che hanno fatto gli attaccanti, in primis Gambale, che spesso era in area, a dare un rinforzo concreto ai compagni, soprattutto sulle palle inattive. E in mezzo alla continuità di Amatucci e la crescita esponenziale di Carpani hanno rivisto il ritorno in pressione di mercati che nell'ultimo mese si era ecclissato senza dimenticare la ritrovata veda realizzativa di Yellow. Il trainer del Modena Tessere ha visto un'altra partita nel commentare la prova dei suoi al 91esimo. Il Montevarchi ha vinto con piano merito, mentre il Modena ha fatto proprio Cilecca. Prezioso successo, cambiamo campionato del Terra Nuova Traiana che nelle battute finali del match piega la resistenza del Firenze Ovest. Una vittoria in zona Cesarini per il Terra Nuova Traiana contro il Firenze Ovest che si è rivelato un avversario più ostico del previsto. Tutto si è deciso in overtime grazie ad una zampata di Betti che ha spostato l'inerzia del match. Per la squadra di Simone Calori, tre punti importantissimi che permettono di rimettere in carreggiata la classifica dopo la delusione patita la scorsa settimana a Figline. E pensate che la squadra locale era partita benino, conquistando il campo, costringendo l'Ovest a presidiare la propria area. Ma i fiorentini quando hanno potuto sono stati pericolosi prima con il palo di Enrighi, poi con il vantaggio firmato da Sidi che ha messo dentro dopo una corta rispinta di Scarpelli. Gli ospiti a inizio ripresa hanno tentato la sortita e in due occasioni sono stati vicinissimi al raddoppio. Picchioli si è mangiato una grossa opportunità poi è Scarpelli che ha negato avergli una rete praticamente già fatta. Un quarto d'ora dalla fine la svolta. Cioce firma il pareggio dopo un assist prezioso di Sacconi. Il pari trasforma i biancorossi che hanno cercato il gol in tutte le maniere. Alla fine la rete che vale i tre punti è arrivata nel recupero e ha portato la firma di Betti che ha messo dentro una palla vagante dopo un'azione di Natale. Al triplice fistio la festa è solo di matrice biancorossa. Una sinergia per stimolare la pratica del nuoto ad ogni età. Ad averla promossa sono le ACLI provinciali che nel progetto di consolidamento di servizi e convenzioni hanno stretto un accordo con il Centro Sport Chimera per favorire la fruizione degli spazi del palazzetto del nuoto di Arezzo. Questa nuova collaborazione si inserisce nel percorso avviato dalla dirigenza ACLIsta volto a strutturare una rete con diverse realtà del territorio per fornire opportunità e benefici ai propri soci e ai propri circoli. La convenzione rientra anche nel processo di prossima costituzione dell'Unione Sportiva ACLI provinciale. E grossa delusione in casa della SBA Arezzo. La sconfitta con il Cus Pisa è stata dura da digerire. Il Presidente si scusa con i tifosi. Mauro Castelli è un passionale, il primo tifoso della scuola basket Arezzo ma allo stesso tempo è anche il primo che si prende le responsabilità quando la squadra delude le attese contro il Cus Pisa. La botta è stata pesante sotto tutti i profili. Chiedo scusa di questa defaianza. Perché dico defaianza? Perché una settimana fa e solo una settimana fa abbiamo giocato una partita alla Spezia con un'altra squadra. Cioè una squadra completamente trasformata. Non so onestamente quale sono le cause. Adesso io andrò a chiedere informazioni in merito. Se è un problema relativo all'altra squadra piuttosto che al fisico, piuttosto che al gioco. Onestamente non lo so perché per fortuna siamo una società che lancia i giovani. E per fortuna oggi in campo c'erano due nostri giovani che ci hanno tenuto a galla e ci hanno evitato di prendere una batosta abbastanza grossa. Quindi chi ha il dovere di avere la responsabilità di far girare la palla e di prendersi le responsabilità deve imparare a prendersi. E questa cosa deve essere fatta subito. Ora diamo ovviamente tempo all'allenatore e alla squadra di amalgamarsi di trovare anche queste situazioni in altre occasioni. Però diciamo che mi ero illuso forse dopo queste due partite le due amichevoli finali e questa precedente di aver fatto una scelta un pochino più tranquilla quest'anno. E devo dire che oggi le sicurezze mi sono cadute. Il basket integrato della scuola Basket Arezzo riparte e raggiunge un significativo traguardo. Nel mese di ottobre ha preso il via la decima stagione del percorso di inclusione e integrazione sociale promosso dalla società Retina con l'obiettivo di far vivere la palla canestro a ragazzi con disabilità fisiche, intellettive e relazionali. Questo progetto è stato inaugurato nel 2011 e dopo lo stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria ha ripreso il via sui campi del Palasport Extra Mario D'Agata facendo affidamento sul rinnovato sostegno di IBM Centro Tecnico per tornare a proporre allenamenti congiunti tra atleti con disabilità e atleti delle squadre giovanili della SBA. Ed è tutto per la nostra pagina sportiva. Grazie per essere stati in nostra compagnia e arrivederci.